L'emergenza coronavirus purtroppo inciderà molto anche sul settore turistico, si approssima l'estate. La Liguria dovrà fare conto solo sui turisti locali e regionali perché gli stranieri purtroppo non potranno venire da noi. Non solo a Liguria, 7500 km di coste italiane dovranno fare il conto di quello che accadrà. Pensi lei che il turismo costiero rappresenta qualcosa come il 13-14% del prodotto interno lordo del nostro paese. E quindi sarebbe anche ora che qualcuno ci dicesse che cosa dobbiamo fare per andare avanti. Lei gestisce un bagno di eccellenza anche per i dipendenti, c'è stata la possibilità di avere la cassa integrazione, come siamo messi? Noi l'abbiamo richiesta per quelli che erano in forza al momento. Sino ad oggi mi sembra che nessuno di loro abbia ricevuto alcun contributo, tant'è vero che io da lunedì probabilmente li prenderò al lavoro per ultimare le ultime manutenzioni e aspettare che qualcuno ci dia l'oracolo. Una stagione balneare che si prospetta all'insegna del distanziamento sociale, quindi ci saranno ombrelloni distanziati e anche un sistema di prenotazione del posto spiaggia. Sì, ancora tutto è campato in aria e ripeto, aspettiamo che qualcuno ci dica, ma si fanno una ridda di ipotesi e un sacco di bagianate. Vedo ad esempio il domopac attorno agli ombrelloni, quindi non lo so, è ancora troppo prematuro per dire tutto. I punti importanti per noi sono tre. Il primo è il rinnovo della concessione, ovvero la messa in opera della legge del 2018 che estendeva le nostre concessioni fino al 2033. Il secondo è sapere finalmente quali saranno le distanze e quali saranno le prescrizioni. Si parla tanto di sanificazione e di cose simili che non sono perseguibili per strutture come le nostre. E terzo e ultimo sono le responsabilità civili e penali che avranno i titolari dell'impresa. L'estate dà sempre il tempo della socialità, della musica, del divertimento, dello stare assieme all'aria aperta. Chi aspetta quest'anno qualcosa di completamente diverso? Sarà un'estate difficile. Io vedo ancora di più un autunno preoccupante con le condizioni attuali del nostro paese. Grazie a tutti.